Siamo a Pro Audio e Sound in Frankfurt, il secondo giorno e definitivamente stiamo introducendo per la prima volta il nuovo cable per studio, che sono 1 paio e 12 paio. Perché? Crediamo che il proprio parametro elettrico e meccanico per il studio è definitivamente la soluzione per ricreare, per trasportare il segno come origine. Il cable è RMCS-012 e è analogico, pur analogico. Per la prima volta c'è la garantia che quello che ricorda sul microfono, che il microfono può andare fino al mixaggio. RMCS-01 con il stage box e il multicore RMCS-12. Recentemente, solo due settimane, in India ha fatto una grande orchestra, 64, da Germania, nel studio YRF in Bombay. Possiamo leggere su questo magazzino, Pro Audio Asia, in marzo-aprile edizione, la preliminari che YRF Studio testa, Reflab Cable multicore for orchestra recording. Il laboratorio di referenza è nato nel 989. Il cable è un cable, il cordo è un altro cosa. Se hai un instrumento acustico, se hai un vocal, se hai un elettrico, se hai una gitarra allo-body, se sei in studio o se sei in live, abbiamo disegnato il cable per l'applicazione. La referenza è che il DNA è audio-acustico. Abbiamo un segmento MI e un segmento Pro Audio. Nel Pro Audio abbiamo il sound, il luce e il video. E abbiamo fatto qualche soluzione speciale. Mi ricordo che in IS, 10 anni fa, quando il mayor ha fatto il primo power, 15 anni fa, il primo UPA1, con il power included, abbiamo disegnato il cable per trasportare il segno e il power together. Mi ricordo che John testa questo a Berkeley, con una grande satisfazione, senza un ruolo. Nessuno ha fatto, in quel momento, questo tipo di cable. quindi la referenza, la ricerca, ha fatto questo cable perché logisticamente, hai solo uno, invece di mettere due, il power e il segno. Ma ora, in quella direzione, abbiamo qualche soluzione che riguarda i dati, voglio dire che è originale per la referenza. perché non ci sono fili, ma solo una formazione di injector. Significa che il cable è davvero solido e quando i conduttori non si muovono, perché sono molto compatti, i valori elettrici non cambiano. quindi, nei dati, nei CAT 5, 6, 7, hai un punto molto importante per non muovere il conduttore dentro del segno. Abbiamo, per Speedif, due video e due audio, e molto flexibili, davvero molto flexibili. in questo caso, la box di stage è integrata nella nostra cable drum, che è patente. È patente perché abbiamo l'end e il real. Quindi, in qualche parola, abbiamo la box, la box di stage, in qualche parola, e poi... ok, una mano può andare. 8 DMX, 2 CAT 5, 2 CAT 5, 8 DMX, e 1 power. 3 x 2.5. 1 multi-core cable, 1 multi-core cable, a stage box, potete 100 m, 100 m. 100 m. di questa cable, è reale, può andare. 100 m. credo che il risultato non è così facile. E c'è il potere, il corso è lì per collegare la console immediatamente. È stato designato per una console MA light. In alcuni secondi, in alcuni minuti, in un breve tempo, invece di portare il potere, il CUT e il DMX. E più sicuro, più relazabilità, sicuro, veloce e qualità. Grazie mille.